bentornati ragazzi abbiamo parlato di legburn e adesso andiamo a vederne una funzione molto utile e molto interessante perché ci fa risparmiare del tempo sto parlando delle librerie come farle come attivarle e come poi approfondire anche il discorso di utilità della stessa per taglio incisione e per i vari materiali che abbiamo già testato e i vari modelli che vogliamo inserire mi raccomando fatemi sapere se vi è stato utile questo video perché alla fine io ho risparmiato un sacco di tempo da quando ho cominciato a utilizzare le librerie quindi giusto condividere questa cosa questa magari piccola funzione che magari più è sfuggita vi lascio al video quindi buona visione ragazzi eccoci qua ragazzi in legburn andiamo a vedere come ci viene utile la nostra libreria libreria divisa in art library per quello che sono già i disegni importati o quello che andremo a importare e la nostra libreria per quanto riguarda i materiali o comunque le impostazioni già salvate nel caso arrivassimo già ad avere una lista di materiali già testati possiamo tranquillamente in libreria selezionare il livello quindi il modello che vogliamo andare a fare e dargli appunto già l'impostazione di taglio o di riempimento insomma quello che è di applicazione del nostro laser a questo modello e a questo materiale già in automatico quindi per ora vediamo come attivare i nostri tasti library e libreria nel caso non lo fosse e soprattutto come importare e come impostare diciamo le cartelle per poi creare tutta questa libreria che vedete qua art library ovviamente la libreria può essere nominata come volete tutti i file andranno dentro a una cartella che nominerete voi i file saranno nominati come volete voi alla fine solo se importate un pacchetto già esistente allora potreste magari avere già il nome sia per il discorso del nome della categoria che i nomi dei file quindi innanzitutto una volta aperto il nostro lightburn dovrete andare a vedere in finestra che ci sia la libreria e l'art library selezionata con la spunta e quindi poi fatto questo ve li troverete qui in mezzo a quello che in teoria vedete di solito oppure l'impostazione del laser di fianco l'art library che è quella dei modelli e la libreria che è quella appunto dei materiali già salvati o comunque delle impostazioni applicate a un materiale come vedete io qui ho messo per fare ardesia pioppo zerbino e scritte in base un po' alle prove che avevo fatto e quindi già potrei andare ad applicare magari adesso vi faccio vedere io seleziono ovviamente partiamo già davanti ma poi torneremo indietro nel come creare questa libreria aggiungo la grafica del progetto una volta selezionato il mio alvin me lo seleziono lì vado a riselezionarlo e in libreria gli dico che deve essere un'ardesia quindi cioè deve essere applicato su ardesia di modo che io so già che è una linea con 20 di velocità e 30 di potenza faccio assegna livello automaticamente ovviamente qui adesso è un po' diverso perché probabilmente avevo cambiato ma 2,45 ok 2,45 di velocità e 30 di potenza probabilmente c'è un errore di salvataggio per quanto riguarda la linea in questo caso ho già una linea e quindi solo il contorno andiamo a vedere l'anteprima e già è impostato il praticamente pronta per andare a laserare quindi perché vi viene utile perché praticamente non dovrete avere una memoria lunga avrete praticamente tutto sotto mano sia quello che riguarda file che quello che riguarda le impostazioni e anche perché lasciatevi consigliare che quando si aumentano i materiali quando si aumentano le impostazioni e quando le prove sono molteplici quindi vi viene bene una cosa è giusto salvarle è vero che uno se le può scrivere è vero che uno le può anche fotografare fare quelle collette però se già utilizzate legburn questo è il metodo migliore perché vi dà in base al materiale di salvare quello che è stato il vostro progetto a cui magari vi è riuscito anche bene il risultato finale di conseguenza cosa fare? quindi partendo da hard library io vi consiglio di partire nel creare come magari vi faccio vedere a voi nel vostro computer una cartella generale chiamata lightburn poi all'interno selezionate tre altre cartelle con templates, materials e art penso che per quello che riguarda noi va bene anche quello che potrebbe essere art per quanto riguarda appunto la libreria delle cose appunto che vorremmo andare a inserire come modello e utilizzare material per quello che è invece il salvataggio del punto della libreria dei materiali invece che si vanno a utilizzare e quindi una volta fatto queste tre cartelle praticamente cosa dovremmo fare? si può tranquillamente decidere di cominciare a avendo magari già dei file avendo appunto la possibilità di creare già la nostra libreria a livello di cartella principale quindi io avete visto che qui ho selezionato cartoon e in cartoon poi ho inserito i vari modelli che sono legati appunto ai cartoon quindi però per fare questo passo primo appunto andare a creare la cartella lightburn con dentro le tre cartelle e una volta arrivati a questo punto in art library voi sarete tutto vuoto qui dovrete fare nuovo se partiamo da zero quindi selezionando lightburn e in art andrò a dargli un nuovo nome qui scriverò il vostro nome adesso facciamo una prima prova di appunto di sé un nuovo, una nuova categoria io salvo e vedete che magicamente nella mia fila di cartelle ho anche prova quindi in questa prova io potrò vediamo se riesco a farlo con un file al volo se ne ho uno veloce veloce non penso forse questo vediamo sì ok tutti i file io ho un bel dxf non so cosa sia sinceramente però lo carichiamo andiamo se me lo carica gigantesco perfetto ok lo andiamo a rimpicciolire per poterlo mettere dentro al nostro spazio di lavoro vi ricordo che se non è nello spazio di lavoro non potrete né laserarlo ovviamente ma né salvarlo vi salverà solo la porzione che vede nello spazio di lavoro quindi ok in questo caso io l'ho già rimpicciolito per la mia area di lavoro ma potrei anche rimpicciolirlo per quello che serve a me quindi adesso l'ho fatto con la freccetta ma poi si potrà tranquillamente andare a a mettere la posizione la larghezza e l'altezza qui come una normale scala di un altro slicer magari sempre della stampa 3D una volta fatto questo cosa succede? selezionando il file io posso dire importa grafica dal progetto selezionando appunto sempre la mia cartella a cui voglio andare a inserire questo modello importo grafica dal progetto posso dargli il nome prova 2 ok e lui me ne importa magicamente nella mia cartella prova ok quindi molto semplice adesso non vi resta altro che appunto cominciare a mettere dentro i vostri file o se avete già un preset già scaricato magari da da un sito appunto che penso si da un forum che avevo anche linkato sul canale discord nella sezione laser e però ripeto se fate carica andate poi a caricare quello che è un preset appunto che però come avete visto prima deve essere lo andiamo a rivedere ovviamente salvato come libreria di lightburn quindi un punto lbart se avete già un preset potete caricarlo in questo modo con scarica andremo a cancellare quindi se occhio a occhio appunto a schiacciare scarica perché cancellate completamente la cartella e i file all'interno caricati quindi possiamo andare a provare direttamente io perché tanto prova non mi interesserà avercelo scarico e magicamente è sparito per quanto riguarda la libreria dei materiali è stessa cosa ma qui dovrete poi prima impostare quello che è diciamo il vostro il vostro valore possiamo tranquillamente dargli una velocità di 500 in questo caso sempre per fare una prova tanto per cambiare e gli do un riempimento posso assegnarlo sempre a livello ovviamente però posso anche creare un nuovo da livello creando un nuovo da livello gli dico sempre ardesia ok ardesia prova e questo sarà vabbè spessore se c'è se c'è ma per l'ardesia non serve comunque è sempre solo un'incisione allora descrizione del materiale bene ok perfetto ardesia prova nessuno spessore io ho ardesia e riempimento invece si fa appunto ritornare da zero assegno il livello qui abbiamo linea gli dico di assegnarlo a livello riempimento track quindi ok mi era solo sfuggito un attimo un discorso di dargli il nome ma avete visto che trovato l'impostazione giusta io in libreria posso dirgli ho usato questo materiale avevo questo spessore e ho usato queste impostazioni lo salvi la prossima volta sai che lo stesso materiale con le impostazioni che ti erano venute bene potrai recuperarle semplicemente senza andare in sbattimento e chissà quale memoria avere quindi penso che sia molto utile avere attivato l'art library e soprattutto la libreria avete visto che basta solo indicarli il percorso ovviamente dove mettete la cartella lightburn con le tre cartelle che avete visto in precedenza per i materiali e il discorso dei modelli ricordatevi che dovrà stare sempre in quella posizione altrimenti se la spostate andrete poi a non far trovare più quello che sono i riferimenti al programma e quindi non vi darà più la vostra libreria detto questo questo è stato un video abbastanza semplice e veloce per quanto riguarda l'art library se avete delle domande mi raccomando commentate trovate i nostri link in descrizione per quanto riguarda discord e quindi avere una maggior assistenza su quanto riguarda il laser e lightburn in generale vi aspetto anche appunto nella chat normale di discord per fare una semplice chiacchiera mi raccomando attivate la campanella se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se non lo siete già iscritti mettete un mail vi piace e ditelo agli amici ci vediamo al prossimo video magari su appunto un altro approfondimento di lightburn ciao a tutti ragazzi